Finisco un po' per il cristiano che brancola nel buio, perché è buio oggi, perché chi mi dice che non è buio è dire che non capisce dove stiamo andando. In questo momento così buio è proprio questo tentare, brancolando, di andare avanti cercando qualcosa per uscire fuori da vedere questo momento così traumatico.